Ok, sei passato da un atteggiamento, cioè sei passato da dire Martina è una persona che è stata importante, con cui, comunque, a cui io voglio bene Tutto il resto a dire che fondamentalmente... Ma questa è la verità, non ti ho mai negato che ti voglio bene Ma tu mi hai quasi detto che Marco si conosceva Ma non è vero, però Martina tu devi anche essere onesta nel dire che tu Cioè quando parliamo di relazione, per me relazione è una cosa Tu hai dormito a casa mia due giorni, tre, capito? Va bene Eh no Martina, io non dico cazzate, questa è la verità Ci siamo visti per quei dieci giorni o me lo invento Ma no Daniele, di più, ma che dici? Ma cosa dici? Di più Dani? 20, 20, un mese? Ma va bene, ma comunque non sei venuto anche a Milano quando ci siamo allontanati a dirmi Non mollare tutto, non mandare tutto affanculo quello che abbiamo costruito Perché comunque io a te ci tengo Ma certo, perché non ci parlavamo neanche insieme Ma questo è un altro discorso No, perché tu mi vedevi che mi stavo allontanando e non volevi Martina, io non volevo perché... Ma io non voglio constatare questa cosa Se io tengo una persona, a me dispiace perderla Non è gestita bene Martina, se a me dispiace una persona Non è gestita bene Se io mi trovo bene con una persona, mi dispiace perderla, va bene? Mentre per te o le cose vanno come eventualmente non te parlano neanche insieme Ma io ti ho mai chiesto... Ma scusami Dani, ma io ti ho mai chiesto di allontanarti da Oriana O ti ho mai imposto un comportamento negativo nei suoi confronti? Ma tu, conoscendomi, sai che io non ti avrei nemmeno mai ascoltato Giusto? Perfetto Ma il problema non sussiste infatti Ma se tu vieni da me e mi dici che strumentalizzo la cosa per me e te Mi dispiace per le parole che ho usato Ma mi fanno girare i coglioni Perché sai che io non strumentalizzo una... Questo ci può stare E basta, tutto qua Io mi scusa di questa cosa Tutto qua